Un saggio silenzio. Chiede questo Don Vito Morcelli, parrocco di Cosio Valtellino, che sta confortando i suoi parrucchiani per la terribile tragedia che ha sconvolto la comunità della Bassavalle con l'improvvisa morte di Nicola Pontigia, meccanico di 55 anni, investito dal camion che stava riparando e l'ancora inspiegabile scomparsa, solo pochi giorni prima della tragedia, della moglie Svetlana Balica, 44 anni di origine moldava, della quale si sono perse le tracce. Non ci sono parole, spiega il sacerdote che domani mattina alle 10 nella parrocchiale del paese ufficerà il rito funebre, vietato per volontà dei parenti a telecamere e macchine fotografiche nel rispetto di un dolore così atroce, intimo e personale. Poche le parole che Don Vito pronuncerà nell'omelia sono il mistero e l'amore di Dio nella nostra vita, sovrastare ogni cosa e solo a lui che riconosce in profondità il nostro cuore affidiamo il nostro fratello Nicola, la sua bontà, la sua misericordia. Il signore esorterà Don Vito, raccolga il bene che Nicola ha fatto e doni conforto a tutte le persone che lo amavano in questo momento di strazio. Poi il parroco chiederà ai presenti di osservare alcuni minuti di silenzio, quel silenzio tanto invocato dai familiari messi a dura prova in primis dalla grave perdita di un figlio, un amorevole papà, un affettuoso nonno, un caro amico, ma anche dalle elazioni, per ora senza conferma che si sono susseguite in questi giorni. La verità, le diranno gli inquirenti a tempo debito, precisa Don Vito, a noi non resta che pregare, evitare i giudizi e stare accanto a tutte le persone travolte dalla perdita di un uomo strappato prematuramente e tragicamente alla vita.